In apertura di questo servizio di una questione relativa ai trasporti e rimaniamo in tema anche con il prossimo servizio perché ci occupiamo di aeroporto. Lo scalo di San Giacomo è stato indicato tra i cosiddetti aeroporti bonsai ovvero quegli aeroporti che nel bel paese potrebbero essere per così dire a rischio. Tutto questo ha innescato tutta una serie di reazioni anche dai toni piuttosto polemici ma Bolzano e la provincia rilanciano e dicono anzi sì all'adeguamento della pista e dunque al rilancio della struttura aeroportuale bolzanina. L'aeroporto di Bolzano finisce nella lista delle infrastrutture inutili, i cosiddetti aeroporto bonsai che potrebbero essere a rischio sopravvivenza ma provincia e camera di commercio di Bolzano lo difendono a spadatrata. È strategico, ha detto l'assessore provinciale competente per i trasporti Thomas Wittmann e siamo noi a finanziarlo. Intanto da parte di Palazzo Wittmann sarebbe arrivata la risposta positiva all'ABD, la società di gestione dello scalo, sull'adeguamento della pista. Più lunga è stato detto per rendere lo scalo economicamente sostenibile e concedere così l'utilizzo di velivoli più grandi per il trasporto delle persone. Un adeguamento questo che consentirebbe all'infrastruttura bolzanina di rendere al meglio e di giustificare dunque gli investimenti che sono stati fatti in passato.